Questo programma è offerto da Tecnocampus Giovedì 21 marzo, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla quotidiana Rassegna Stampa Che come sempre è offerta da Tecnocampus Oggi virtualmente sarebbe la prima giornata di primavera Ma a quanto pare il tempo, parlando del tempo meteorologico Ancora non è d'accordo Intanto noi cominciamo a vedere quali sono i fatti in primo piano E ci auguriamo che presto anche la primavera sia una di quelle notizie Che potremmo annunciare proprio da questa Rassegna Stampa Ma cominciamo subito a vedere i fatti in primo piano Partendo dalla cronaca perché abbiamo visto che Già ieri sera siamo rimasti tutta la giornata con il fiato sospeso Proprio perché è accaduto un fatto che evidentemente non dovrebbe mai capitare Ma cominciamo a vedere subito i fatti su Corriere della Sera E vediamo proprio in apertura di pagina Terrore sul bus, salvati 51 studenti Eccoci qua da Milano alla cittadinanza italiana dal 2004 Condannato però, attenzione per molesti a un minore E denunciato per guida in stato di ebbrezza IPM lupo solitario L'autista di origini senegalesi li lega e appicca il fuoco No ai morti in mare I carabinieri li liberano dal finestrino E vediamo l'immagine di questo autobus Che ha finito proprio in questo modo il suo percorso E il rapimento di questi 51 studenti Fortunatamente tutti in buona salute E infatti vediamo, voleva fare una strage Dirottando verso Linate il bus pieno di studenti Un autista di origini senegalesi di 46 anni Ha preso in ostaggio i 51 ragazzini di una scuola media di Crema Ha riempito il mezzo di benzina E solo grazie all'intervento dei carabinieri La strage è stata evitata Basta migranti morti in mare per colpa di Di Maio E Salvini gridava L'uomo che durante questo sequestro Si è lasciato andare a tante frasi sconnesse E ancora vediamo cosa è accaduto Perché non doveva essere lì Cominciamo proprio I bimbi che urlano alle porte di Milano L'autista che è pronto a fare una strage Il bus prende fuoco Gli alunni tutti in salvo per un soffio Forse per un miracolo Stavolta si può dire la follia, il fanatismo I cancelli dell'orrore a casa nostra Dopo averlo raccontato nelle strade di Mezzomondo Le fiamme avvolgono una carcassa Come uno specchio di questo tempo Dove tutto è connesso e tutto rimbalza A partire dalla violenza E poi la parola immaginata e allontanata per ore Alla fine pronunciata Terrorismo, terrorismo Non perché quest'uomo sia affiliato all'Isis Ma perché ha creato il panico Ha annunciato il massacro E ha lanciato un messaggio In qualche modo politico Con la volontà di vendicare i migranti del Mediterraneo Dai barconi di Lampedusa Fino allo scuolabus in Lombardia Senegalese di nascita Cittadino italiano 46 anni La retorica nazionale Prevede già due filoni subito Con i bambini che tremano ancora Il primo porta dritto al sovranismo ideologico I migrati quindi cattivi Ma comunque sono troppi Il secondo va dalla parte opposta Matteo Salvini Soffia sul fuoco E poi ecco una mente sconvolta Da quel fuoco Lo accende sul serio E vediamo il ragazzo eroe Così di nascosto avvisato il 112 Il ragazzino è riuscito a conservare il suo cellulare Non farsi vedere Ha chiamato la mamma E grazie a questa chiamata È riuscito a salvare tutti i ragazzini Che si trovavano su questo scuolabus Il problema grande rimane comunque questo Le persone che rivendicano determinate situazioni Sono sempre più numerose Il problema è ancora un altro Per quale ragione? Ce lo domandiamo noi Lo domandiamo a voi Me lo domandiamo soprattutto Alle forze dell'ordine Alla politica A chi si occupa di gestire queste situazioni Perché quell'uomo guidava uno scuolabus A prescindere dalla nazionalità Abbiamo visto proprio nei titoli Nella parte alta della pagina Condannato per molestie su un minore E per di più denunciato per guida In stato di ebrezza Come fa un uomo del genere Che comunque ha dei precedenti Ad essere considerato affidabile E soprattutto avere la responsabilità Di condurre verso una qualsiasi Verso un qualsiasi luogo Dei bambini innocenti Ma anche non solo bambini Comunque avere la responsabilità Della guida di uno strumento Qual è appunto un autobus Che conduca appunto persone Verso una determinata meta Insomma tutte cose che devono essere valutate Già ieri il ministro Salvini Ha detto che adesso bisognerà ovviamente Presentare un certificato penale Cosa che in questo campo Doveva già essere valutata in precedenza Ma a quanto pare ci sono Dei vuoti normativi Che lasciano ancora Tante parole non dette E soprattutto tanta paura Ancora continuiamo a vedere La prima pagina di questo quotidiano Tangenti arrestato Il 5 Stelle De Vito Dividiamoci questi Quando ci ricapita E questo è infatti Il terremoto giudiziario Nel Movimento 5 Stelle Romano Il presidente dell'Assemblea Capitorina Marcello De Vito è stato infatti arrestato Per corruzione Spartiamoci tutto Diceva al telefono Perquisiti il suo appartamento E gli uffici in Campidoglio L'esponente grillino Paladino Del cambiamento E dell'onestà in politica Avrebbe incassato Somme di denaro Dal costruttore Luca Parnasi De Vito in cambio Avrebbe promesso All'interno Dell'amministrazione grillina Guidata dalla sindaca Virginia Raggi Di favorire il progetto Collegato proprio Allo stadio della Roma E ancora nella parte sempre bassa Di questa pagina Il fustigatore con le arance Le accuse e gli altri Giustiziato Il giustizialista La reazione dei grillini All'arresto di De Vito E la metafora Del garantismo A singhiozzo E ancora il mito Della diversità Adeguarsi al sistema Lo sapeva Marcello De Vito Che il suo incarico Di presidente Del Consiglio Comunale Di Roma Non sarebbe ovviamente Durato in eterno E ancora continuiamo A vedere i fatti Sulle testate nazionali Sulle prime pagine Dei quotidiani E andiamo questa mattina Su Il Fatto Quotidiano E andiamo a vedere Che cosa racconta Questa prima pagina E vediamo che anche qui Nella parte alta Della pagina L'attenzione è puntata Su Milano Il terrorista Non giadista Voleva bruciare Vivi 51 bambini Sul bus L'autista L'aveva annunciato Su Youtube Lo faccio Per dire Basta alle stragi Di migranti Ed ancora Vediamo nella parte centrale Della pagina Tutta l'apertura Dedicata De Vito in manette La Raggi Vide il suo socio Ma lo scartò Arrestato il presidente Movimento 5 Stelle Dell'Assemblea Adesso Dice Di Maio Sarà espulso E ancora Continuiamo a vedere Le altre notizie Continua proprio A parlare Di Maio Restiamo diversi Noi le mele Marce Dice Le cacciamo E ancora Immigrati Indagato anche il comandante Per la Mare Ionio La nave rossa Sequestrata pure Dai PM Intanto si parla Di caso Diciotti Il senato Salva Salvini Dal processo Lui ringrazia Ovviamente I 5 Stelle E ancora Vediamo nella parte Bassa della pagina Ci spostiamo Sulla parte sportiva Tra pattoni Ottant'anni Vive il trap Ultimo signore Del calcio Che faceva Sognare E nella notizia Di piede Ventennio Dagli sprechi Per le bonifiche E i flop In economia La vera storia Treni e bici Le fake sulle cose Buone dal duce Insomma Ancora tanta polemica Per le affermazioni Fatte proprio In relazione A Mussolini Nel corso Della settimana Scorsa Ancora tante polemiche Ma anche Tanti fatti Che vengono Raccontati In maniera divergente E continuiamo a vedere Le prime pagine Dei quotidiani Ci spostiamo ora Sul quotidiano Libero E nella parte alta Della pagina Premo grillino In galera Per tangenti Movimento 5 stelle Segue la tradizione Dei partiti Che in realtà Dice di combattere E ancora Nell'articolo Di apertura Prodigioso Intervento Dei carabinieri Senegalese Emulo Di Erode Voleva bruciare I bambini Altro esempio Di integrazione Mancata Ex profugo A cui abbiamo Dato la cittadinanza Tenta di fare Una strage Degli innocenti Per dare Una lezione Al leader Della rega L'ho fatto Dice per I morti In mare E intanto Commentava Dalle sue pagine Dalla sua pagina Facebook Un messaggio Ai migranti E a tutti gli africani Non venite in Italia E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Chiuso il caso Diciotti Farsa finita Salvini salvo E ancora La domanda è Chi finanzia I barcaroli Quali sono Gli sponsor Di Casarini Dice appunto Questo giornale Ed ancora Nella parte centrale Il capo dei vescovi Sclera Benvenuti Gli immigrati Respingiamo I sovranisti Insomma C'è una duplice Sfaccettatura In questa vicenda E c'è proprio Questa dichiarazione Forte In cui Il benvenuto Viene dato Proprio agli immigrati E di contro Agli stessi italiani Viene detto Sovranisti Non ne vogliamo Insomma Una duplice Vicenda Che si inserisce In un quadro politico Piuttosto vasto Complesso E ricco Assolutamente Di tanti fatti Che ci lasciano Un po' perplessi E soprattutto Smarriti E con un equilibrio Precario E ancora Vediamo Lo sciopero Dei redattori Del giornale Il tragicomico Suicidio Di quello Che è appunto Il giornale E infine Vediamo Una brutta notizia Nella parte bassa Della pagina Era entrata In un giardino I piccoli dati A un salumificio Attenzione La notizia è questa Mamma cinghiale Abbattuta Davanti ai cuccioli E ancora Quelli che hanno Paura degli insetti È un terrore Che porta a fare Folline Ecco La realtà è proprio questa Gli animali Che comunque Vivono con noi Perché alla fine Gli animali Ancora una volta Li vediamo in giro Per le città Non solo più cani e gatti Ma un'infinità Di animali Che comunque Creano Nell'uomo Delle paure Spesse volte Però insignificanti E queste O meglio Più che insignificanti Ingiustificate E queste paure Che cosa fanno Fanno sì Che si determinano Atteggiamenti Poco consoni E soprattutto Violenti Rispetto a quella Che è la realtà Che viene manifestata Ma continuiamo a vedere I fatti in primo piano E vediamo il tempo In carcere per corruzione Ovviamente questa La notizia di apertura Sul quotidiano romano Corruzione De Vito Presidente Movimento 5 Stelle Del Consiglio Comunale Capitolino L'accusa Ha preso tangenti Da Parnasi Per agevolare L'iter Nello stadio Della Roma E a quanto pare Titola proprio così Rubano anche Loro Il riferimento è chiaro Ed è proprio Nei confronti Del Movimento 5 Stelle Ancora vediamo Nella parte bassa Psicodramma 5 Stelle A chi tocca adesso E se non facciamo Ora Finiamo tutti A pesca E infine Raggi contro Lombardi Riparte La faida In rosa E nella parte bassa Della pagina Eccoci qua Il terrorista guidava Lo scuolabus Senegalese con precedenti Voleva la strage Ragazzi salvi Per miracolo Ancora continuiamo A vedere le prime pagine Dei quotidiani nazionali Ci spostiamo adesso Su un'altra testata Eccoci qua Andiamo a vedere La Repubblica E vediamo Nell'articolo Di apertura Proprio A tutta pagina Vediamo questa foto Che è eloquente E racconta Quanto avvenuto ieri Uno scuolabus Che è stato dato Alle fiamme Il problema È che L'attentatore Perché così lo dobbiamo chiamare Voleva Incendiare Lo scuolabus Con i bambini A bordo Fortunatamente I carabinieri Sono intervenuti Grazie alle segnalazioni Provenute proprio Dall'interno Dell'autobus E si è evitata Una vera e propria Strage Perché questo Sarebbe stato E ancora vediamo Da qui Non scende Nessuno Così urlava Terrore a Milano Bus con 51 studenti Sequestrato E incendiato Dall'autista Di origine Senegalese Basta Morti in mare Colpa di Salvini E di Di Maio Ragazzini Eroi Chiamano il 112 Ed evitano Così La strage E ancora nella parte Bassa della pagina Roma A pezzi Il modello Raggi La corruzione Dell'onestà Le parole E il randello Ovviamente Bisogna anche Valutare le due Facce di questa Medesima medaglia Una situazione Che si verifica Però partendo Dalle persone Chi ruba E chi no Ma all'interno Di un medesimo Partito Di una coalizione O di un gruppo Questo però Ovviamente Fa parte Del singolo individuo E insomma Queste sono le notizie Che per ora Vi abbiamo già lanciato Vi lascio a qualche momento Di pubblicità Continuiamo subito dopo Quindi non andate via Grazie a tutti Grazie a tutti All'incrocio tra Caserta E il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale Moderno Frutto di un ambizioso Progetto di riqualificazione Industriale Che ha messo La qualità Del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale Di Caserta È collegato Direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista Pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Ed eccoci di nuovo in studio Proseguiamo ora con l'informazione Che arriva dai quotidiani nazionali Continuiamo a vedere le prime pagine E partiamo adesso da Il Messaggero Tangenti Lo sfregio capitale Scandano in Capidoglio Arrestati per corruzione devito Presidente del Consiglio Comunale Altri tre Mazzette dagli imprenditori Parnasi Toti e Statuto Terremoto nei 5 Stelle Di Maio Lo espelle E nella parte centrale della pagina Una vendetta per i migranti Milano e i ragazzi Sono stati legati Ma uno di loro Dall'allarme I PM Dicono È terrorismo E ancora Vediamo nella parte bassa Della pagina Si parla anche qui di Italia e Cina Ecco Xi per tre giorni Roma sarà blindata Oggi i primi incontri E ancora Continuiamo a vedere Le testate nazionali Ci spostiamo ora Sulla prima pagina Del mattino Andiamo a vedere Proprio questo Quotidiano Oggi Quali fatti Racconta E soprattutto In che modo Lo fa E partiamo Dall'alto Il libero Confronto Il religioso Pagina Il laico Tra coscienza E giustizia Insomma Un confronto Proprio Tra due Elementi Di una società Che è sempre più Variegata E ancora Il fenomeno in calo Stiamo parlando Del divorzio a casa Surace Di Maria Basta web Meglio Gomorra In tv Sembra che ci sia Proprio un Un respingimento Di quelli che sono I programmi attuali Per cercare Davvero Di andare Più sulla fiction Ma la fiction Che racconta Fatti di sangue E soprattutto Di camorra E ancora Vediamo Lo sport Progetti azzurri Napoli Caccia al trequartista Il sogno galactico E isco Del real E intanto Vediamo Che l'apertura Anche di questa pagina È dedicata Tutta Al bus Degli studenti Che brucia Vendico i migranti Morti Terrore a Milano Il fold Immovente Dell'autista Di origini senegalesi Aveva precedenti Per molestie Sui minori Tutti salvi I 51 Ragazzini E ancora Vediamo Nella parte bassa Della pagina Pensate un po' Rahimi 13 anni Il piccolo eroe Marocchino Così ho lanciato L'allarme E infatti L'attentatore Del bus Aveva terrorizzato Le sue piccole vittime Ma non aveva Fatto i conti Con Rahimi 13 anni Che per primo Ha chiamato i soccorsi Dal pullman Ha sequestrato In corso E il ragazzino Marocchino Infatti è riuscito A nascondere Un telefonino Gli altri Erano stati requisiti Dall'autista E ha potuto Dare l'allarme Ai carabinieri Permettendo così Il salvataggio Dell'intera Scolaresca E soprattutto Dare possibilità A queste vite Di andare avanti Insomma I due casi Anche in questa occasione Le due facce Di una medesima medaglia Perché adesso Si andrà sempre più Incontro A questa paura Del diverso Perché ovviamente Nel momento in cui Vedremo qualcuno Dalla pelle più scura Sarà difficile Rapportarsi E soprattutto Ragionare con lucidità Non temendo Che possa Accadere qualcosa Questo è retroscena Di tutta questa vicenda E di quello Che il terrore Che stanno incutendo Non solo in Italia Ma in ogni parte Del mondo Sta arrivando E sta toccando Proprio il fondo E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Nella parte bassa Della pagina Restato il presidente Del consiglio comunale Roma Tangenti da parlasi 5 stelle Nella bufera Così cadono gli alibi Dietro il grido Onestà E intanto Il CDM Prova il decreto Salvo intese Lo sblocca Cantieri A metà Non c'è pace Nel governo Ed intanto Il boom Di mini appalti Abbandonati Nel sud Infatti Sono centinaia I mini appalti Bloccati a sud Cantieri finanziati Con il mille Proroghe Che adesso Sono bloccati E quindi Non hanno La possibilità Di andare Da nessuna parte Ancora vediamo L'editoriale Nelle parole Di Franco Cardini Questa mattina Sulla via della seta E la scala Il potere Secondo I cinesi Ed anche Gli arabi Infatti Può sembrare strano Ma è così La tragedia Di Christchurch In Nuova Zelanda Ha mostrato Il tragico E grottesco Apice D'un pregiudizio In forma più leggera E diciamo così Cronica Cronaca Condiviso da molti Cioè che L'Occidente Sia assediato Da un esercito Di poveri Ansiosi di occupare Il territorio E di soverchiare Gli antichi padroni Ora però A tale schematico Pregiudizio Sembra affrancarsi E sovrapporsi In un altro Evidenziato da uno Dei tanti slogan Tempestivamente Creato da Salvini Che pare molto dotato In questo In quest'arte Rischiamo Di diventare Una colonia Proprio Come ha commentato Il vice premier L'ipotesi Che l'Italia Venga coinvolta Ovviamente In questa via Della seta In questo processo Di evoluzione Insomma Sembra proprio Che le frasi Ad hoc Siano sempre Più in primo piano Ancora andiamo a vedere Che cosa accade In Campania Torre del Greco I sindacati Che tutelano I netturbini In carcere Ora indaga La procura Sul caso Del passaggio Di cantiere Per la gestione Della raccolta Rifiuti A Torre del Greco Che resta in preda A una gravissima Emergenza ambientale E infatti Siamo ancora In alto mare Per quanto riguarda Proprio La raccolta Rifiuti In questo Territorio In questa terra Ormai Abbandonata Desolata Divenuta Una landa In cui proliferano I rifiuti E la salute Comincia Ad essere Messa in seria Difficoltà E intanto Vediamo le liste D'attesa Al Cardarelli Più di un anno Per operarsi Alla mano Oltre un anno Per potersi Operare al polso E alla mano Per la precisione L'attesa Pensate un po' È di 423 giorni E all'ospedale Cardarelli Il più grande Noso comodo È il mezzogiorno Si aspetta Oltre un anno Per trattare Patologia al piede O anche alla gamba Il monitoraggio Sui tempi Per i ricoveri È stato compiuto Dalla Cisla Funzione pubblica Tempi biblici E pensare E pensare che oltre 1.600.000 euro Sono stati investiti Dalla direzione Dell'ospedale Proprio a questo scopo Ossia ridurre Quelle che sono Le liste Di attesa E ancora vediamo Nell'articolo di piede Nella parte bassa Della pagina Quindi Lady Astori E la vedova Nasiria Se la coppia Di fatto È di serie B Lo sfogo Della compagna Del calciatore Morto E infatti A morti di serie A E di serie B Ad un anno dalla tragedia Francesca Fioretti Ricorda come il dolore Per la morte improvvisa Del calciatore Davide Astori Abbia dovuto sommarlo A quello della burocrazia Non tutti infatti Conoscono gli strumenti Giuridici Che possono aiutare Le coppie Che decidono Di non contrarre Il matrimonio Come la legge Cirinna Di cui non ha potuto Usufruire La compagna del regista Ucciso Nella strage Di Nasiria Ancora una volta Strumenti lacunosi Strumenti che Vengono utilizzati male E che comunque Alla base Hanno un'ignoranza E che perciò Non permettono Alle persone Di tutelarsi E ancora vediamo Non si possono fare Classifiche Sulla felicità Stiamo parlando Di Finzi E la Finlandia Felix E infatti Il World Happiness Report Dice che La Finlandia È il paese Più felice Del mondo La verità è che La felicità Non è mai definibile Quindi misurabile E poi la felicità È anche il Sud Italia Parola del ricercatore Enrico Finzi Insomma ieri La giornata mondiale Della felicità Ma effettivamente In che cosa consiste Questo Questa felicità Dura tutta la vita È un momento È un'ipotesi È una teoria Insomma Ragionateci anche voi Raccontateci le vostre Di felicità E se vi va Condividetele con noi Proprio sulla pagina Di Teleprima Ma continuiamo a vedere Adesso i quotidiani nazionali Ci spostiamo Sulla stampa E andiamo a vedere Che cosa ci mostra Questa mattina Anche da qui La fotografia Del bus incendiato La tentata Strage a Milano Sequestra uno scuola bus Per dargli fuoco Allinate Accusando Salvini E Di Maglio Voleva bruciare 51 bambini È un senegalese Naturalizzato italiano Basta morti in mare I carabinieri però Sventano il massacro E ancora Continuiamo a vedere Le altre notizie Eccoci qua Tangenti per lo stadio In cella Il grellino Paladino Della legalità E ancora Roma E le sue tentazioni Irresistibili Purtroppo questa È la verità Dice il detto Che ci sono situazioni Che fanno l'uomo ladro In questo caso Parrebbe proprio Di sì E ancora Vediamo Si tratta Anche qui Sul caso 18 Il senato No al processo Contro Salvini Lui ringrazia Il Movimento 5 Stelle E intanto Vediamo Nella parte bassa Della pagina L'albero più alto E questo è quanto Viene raccontato Da queste pagine Della stampa Ma continuiamo ancora A sfogliare Le testate nazionali Andiamo a vedere Il manifesto Questa mattina Come racconta Proprio il terrore Sul bus Degli studenti E ancora Nel milanese Il fole gesto Dell'autista Del veicolo Per vendicare Le stragi in madre Ma l'apertura Questa mattina È dedicata A tutt'altro E titola Proprio così Utilizzando Proprio il titolo Di un film Dedicato Tutto a Totò La banda Da degli onesti Un clamoroso arresto Si abbatte Sulla credibilità Del movimento Cinque stelle Finisce in carcere Insieme al suo avvocato E il presidente Dell'assemblea Capitolina Marcello De Vito Il mister preferenze In nome dell'onestà È accusato Di corruzione Nell'inchiesta Sullo stadio Della Roma Di Maio Lo condanna E immediatamente Lo espelle Ma ancora Continuiamo a vedere Le testate In primo piano Ci spostiamo Sulla parte politica Economica Scusate Con il sole 24 ore Disblocca cantieri Primo sia i commissari Senza lista Però delle opere E intanto Vediamo anche Che è stata Sul reddito E pensioni Incastata la fiducia Sul decretone Nella parte più bassa Sabataggio banche Scontro duro Tra Banca d'Italia E Vestager L'Unione Europea E le parole A singhiozzo Della Fed Nella nebbia E intanto Vediamo Nella parte centrale Della pagina Un'immagine Che dice tutto A JP Morgan La vendita Di Plasmon E infine Nella parte bassa Della pagina Altre due notizie Sanità Il Molise Richiama i medici In pensione Proprio perché C'è questo allarme Carenza Dei medici Che hanno lasciato In maniera anticipata O comunque Arrivati al termine Hanno lasciato La loro attività E adesso Il Molise Trovandosi in difficoltà Li richiama E intanto Del vecchio Violati i patti Di Elisor Luxottica Ancora Continuiamo a vedere Sempre la parte Economica E ci spostiamo Su Italia Oggi Gli svizzeri Chiedono infatti Tempo Le banche elvetiche Hanno già richiesto Una proroga Per fornire i dati Dei clienti Italiani Che avevano Aderito Alla voluntary Disclosure Chiesti a gennaio Dalla guardia Di finanza E intanto Si parla ancora Di Boeing Continua a produrre Il 737 Max Ma per ora Non può venderlo E nella parte centrale Donald Trump Ora sta litigando Anche con la Merkel E minaccia Rappresaglie Intanto Vediamo Tar Campania Condanna per reati Legati alla droga Stop Alla revoca Alla revoca Automatica Della patente E infine Vediamo Ancora Quali sono i fatti In primo piano Proprio raccontati Dalle pagine Dei quotidiani Nazionali Ma questa volta Ci trasferiamo Proprio sulla parte Sportiva E andiamo a vedere Il Corriere dello Sport Che cosa ci mostra Questa mattina E infatti Vediamo Nella parte alta Della pagina La cronaca A proda Anche su questa Prima pagina Perché ovviamente Sporca tutto Fango Capitale Altra picconata Allo stadio Della Roma Arrestato Il grillino De Vito L'accusa E corruzione L'ira Della Raggi Pallotta Società Assolutamente Estranea E si torna A parlare Ancora una volta Plennesima Diremmo noi Icardi Ha detto Si Mauro Torna ad allenarsi Con l'Inter Senza porre Condizioni Ieri L'incontro Tra Marotta E l'avvocato Del bomber Sciolti Gli ultimi nodi A giorni Il confronto Con i compagni E ancora Continuiamo a vedere Le altre notizie Eccoci qua Pazzi di Chiesa E derbi D'Italia Juve Inter Sul gioiello Di Firenze Ma i guai fisici Di fede Allarmano CT e Viola E ancora per Iander Testa Austria Trieste E nella parte Bassa Della pagina CR7 La sentenza Il gestaccio In risposta A Simeone All'esame Della UEFA Oggi il verdetto Più probabile La multa Che la squalifica Ma in giornata Comunque Vedremo Quale sarà La decisione E soprattutto Vedremo Quali saranno I fatti E ancora Ci spostiamo Su Tutto Sport E andiamo a vedere L'apertura Anche su questa pagina Juve Hai preso Un fenomeno Eccolo qua E infatti Prandelli Esalta Romero Mai allenato Un ventenne Così forte Paratici Lavora per anticipare A giugno L'arrivo Del difensore Genuano Di Balla Neymar Pogba E Mappé Che intreccio Ronaldo Oggi la sentenza E nella parte Bassa Eccoci qua Vediamo Mancini Un'Italia Da 892 milioni Al Cairo Ricabi Boom E rinnovo A Belotti E intanto Inter Ecco i Cardi L'ora delle scuse E i vialli Alla Samp Vediamo tutti In retroscena E anche con Questa parte Che riguarda Lo sport Chiudiamo La prima parte Dedicata Proprio alle testate Nazionali Facciamo un momento Di pausa Due secondi Di pubblicità E ritorniamo Subito dopo Per continuare A parlare Sempre ovviamente Di informazione Outro Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta-Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. E ancora una volta eccoci qui in studio pronti per affrontare quelle che sono le tematiche che arrivano dalla regione Campania. Partiamo adesso però ovviamente alleggerendo un po' questa mattina di fatti concreti, di informazione davvero terrificante e passiamo a un fatto bello che riguarda la città di Napoli dove arriva infatti Mohamed Ali, la leggenda in 100 foto al Museo Panna. E infatti 61 combattimenti, le sue battaglie contro il razzismo e il rifiuto di prendere le armi. Infatti stiamo parlando di Mohamed Ali a Napoli, evento mai accaduto. Il campione di pugilato si fermò nella sua vita a Roma dove vinse nel 1960 la medaglia d'oro olimpica. Ora il mito di una delle icone sportive più famose e celebrate nel XX secolo rivive anche nella città partenopea con una vera e propria mostra in programma fino al 16 giugno al PAN in via dei Mille. L'apertura di questa mostra è proprio oggi e racconterà negli scatti più belli quella che è stata una vita dedicata proprio a questo sport. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Si passa alla cronaca, la sicurezza, la città sfregiata dalla camorra e il silenzio ancora una volta della politica. E infatti una città sfregiata dagli spari all'impazzata della camorra. Tra qualche tempo alcuni posti nel cuore di Napoli si riconosceranno e ricorderanno anche per i segni dei colpi impressi sui muri, sui banconi delle pizzerie, sulle vetrine dei bar, sulle saracinesche dei negozi. Insomma ci troveremo così come accade in Bosnia con i segni di queste pallottole conficcate nei muri che raccontano una storia, una vicissitudine che parla proprio di violenza, di barbarie e che porteranno un'immagine di Napoli sempre più cruenta e violenta ovunque si parli di questa città. E ovviamente chi parlerà di Napoli parlerà anche di Caserta e le altre province della Campania sempre nello stesso modo, parlandone come città violente. Questo è un segno ulteriore di una violenza che dovrebbe essere e potrebbe essere fine a se stessa, ma che in realtà non viene combattuta nel modo giusto e di conseguenza porta a questi limiti estremi. Infatti l'arrocanza dei clan non ha freni, il piano di sicurezza per la città di Napoli non funziona. Lo dicono i fatti, lo certificano i proiettili esplosi da Ponticelli a Piazza Trieste e Trento. I quartieri, neppure quelli dove ci sono i ragazzi delle istituzioni come la Prefettura, sono presidiati per il tempo e con la strategia che in realtà occorrerebbe. I giovani e i feroci camorristi del 2000 lo sanno bene e agiscono soprattutto quando le piazze sono vuote, le auto della forza dell'ordine sono ormai andate via. Ecco, questo è il quadro che viene tracciato questa mattina dalla Repubblica. E ancora vediamo una notizia di cronaca che riguarda comunque la città di Napoli, perché il Comune che cosa fa? Aumenta la tassa di soggiorno di 50 centesimi e gli albergatori adesso scendono proprio sul piede di guerra. E infatti a partire dal primo aprile la tassa che ciascun turista dovrà sborsare sarà da 2,50 a 3 euro, a seconda del tipo di albergo, bed and breakfast scelto. Ma la decisione non va giù a imprenditori e operatori del settore. Ci hanno convocato per farci prendere atto di una scelta unilaterale, protesta Agostino Ingenito, referente ABAC. Ci costringono a subire un aumento, mentre la concorrenza tra città e territori si fa sempre più agguerrita. Insomma, le due specettature di una medesima medaglia, ancora una volta a confronto da un lato la violenza, dall'altro lato la tassa di soggiorno, che limita in questo modo l'attrattività di una città che viene considerata ancora una volta una delle città più belle del mondo. Però a quanto pare è proprio questo il problema grande è che le istituzioni non vengono incontro a quella che è la gestione di una città fatta proprio per essere turistica per eccellenza. Ancora continuiamo a vedere le notizie di cronaca che arrivano da Napoli. È causa al Cardarelli, 423 giorni d'attesa per ricovero e intervento in ortopedia. Il record infatti è detenuto dalla prima ortopedia per un intervento chirurgico al polso alla mano. L'attesa è di 423 giorni, 59. Pensate un po' i pazienti in lista. E al Cardarelli oltre un anno si aspetta anche per curare una patologia al piede o alla gamba. Per l'esaltezza 417 giorni, 24 i malati prenotati. Ancora la diagnostica terapeutica è rinviata di 314 giorni dalla richiesta. 45 quelle ricevute nell'ospedale più grande del mezzogiorno. Un punto di riferimento e di eccellenza. E poi ci chiediamo il perché molte persone per curarsi vanno fuori regione. E ci chiediamo anche perché si sottopongono veramente a viaggi cosiddetti della speranza per trovare una ragione nella propria salute. E insomma questo è un caso fra tanti. Ovviamente questa mattina il mattino, scusate il gioco di parole, racconta di questa vicenda ma tante altre se ne potrebbero raccontare e ovviamente purtroppo tante ne racconteremo ancora. E si parla ancora di cronaca, droga e racket, blizza nella notte nel napoletano, 11 arresti sgominati il nuovo clan. Dopo indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, i carabinieri e la compaginia di Giuliano in Campania hanno dato esecuzione a misure cautelari emesse dal GIP di Napoli a carico di 11 soggetti ritenuti a vario titolo con responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di estorsioni aggravati dal metodo mafioso. E ancora continuiamo a vedere le vicende che riguardano proprio la città di Napoli. Ancora problemi per il Teatro San Carlo, De Luca chiama Confindustria, ora dice sponsor privati. Questa è la soluzione per andare avanti. Infatti si punta su un modello La Scala per salvare il teatro più bello del mondo. Si cercano sponsor, dice. Ieri ho parlato del San Carlo con il presidente di Confindustria Enzo Boccia. La regione coinvolgerà però anche gruppi imprenditoriali nazionali pubblici e privati. E quanto rivela appunto il governatore della campagna proprio in relazione a questa vicenda che riguarda il Teatro San Carlo. E ci spostiamo ora sulle pagine di Caserta News. Andiamo a vedere quelli che sono i fatti in primo piano che riguardano Caserta e la sua provincia. E partiamo dalle minacce, pressioni e ricatti all'ordine degli architetti, nuovo presidente in un clima avvelenato. Parliamo di Rossella Bicco, contesta il blitz per l'elezione di Cecoro e scatta la diffida al nazionale. Infatti andiamo a vedere. Tanto tuonò che piove, ma l'elezione del nuovo presidente dell'ordine degli architetti di Caserta rischia di aprire una vera e propria guerra di diffida e denunce che andranno a rendere ancora più avvelenato un clima che non era dei migliori, già perché la nuova era di Rossella Bicco non era iniziata nei migliori dei modi. Lettere minatorie, ricatti e pressioni, tanto da arrivare a minacciare di mettere una bomba sotto la sede dell'ordine a Caserta. E' questo che viene raccontato proprio da queste pagine per una nomina che ha fatto scalpore, ma soprattutto ha creato inimicizie. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo a Casal di Principe, la compagna del capo clan del duplice omicidio dopo gli agguati contro Setola. Anna Carrino racconta la faida di Camorra, cercare uno mio figlio piccolo al bar, si nascose sotto al bancone. Furono Aniello Bidognetti e Giuseppe Setola, così Anna Carrino, l'ex compagna del capo clan Francesco Bidognetti, detto cicciotta e mezzanotte, diventa collaboratrice di giustizia, oggi nel corso del processo in corte d'assise per il duplice omicidio, di Nicola Baldascini, figlio di Vittorio e appartenente al gruppo scissionista della fazione bidognettiana del clan dei Casanesi e di Antonio Pompa. Delitto per cui è finito alla sbarra il superkiller Giuseppe Setola, difeso l'avvocato Paolo Di Furia, mentre proprio Anna Carrino ha patteggiato la pena. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, si parla ancora di architetti, però questa volta per una vicenda tutt'altro che differente. Rispetto alla prima con cui abbiamo aperto proprio queste pagine di Caserta News, un architetto, pensate un po', arrestato in crociera all'avvocato, 122 giorni tra topi e scarafaggi per una vicenda a dir poco caffiana. Il professionista ammanettato per le molesti alla figlia di 4 anni, legale Maurizio Zuccaro, rispediamo queste accuse infamanti al mittente. Vediamo che cosa è accaduto, una vicenda allucinante, surreale, caffiana, per la superficialità dello Stato greco nello svolgimento delle indagini per cui un cittadino italiano si è fatto 122 giorni di carcere. Con la denuncia per calunnia intendiamo rispedire al mittente queste accuse infamanti e confidiamo in una soluzione rapida della vicenda. Ma vediamo che cosa è accaduto. Tutto comincia quando il professionista di circa 50 anni ed incensurato e sua moglie, professoressa, si sono imbarcati a Venezia per una cruciera nel Mediterraneo su una nave di una nota compagnia italiana. Tra le tappe in programma c'era anche un'escursione a Corfu. Faceva molto caldo e marito e moglie scessero di lasciare la bambina al baby club della nave e scesero sull'isola per la visita programmata. Fu durante l'assenza dei genitori che la piccola avrebbe rivelato a un animatore brasiliano di 24 anni un particolare inquietante sulla vita casalinga. A casa papà mi fa la pipì in testa avrebbe detto la bambina a circostanze che l'animatore che mal comprenderebbe l'italiano riferì al comandante della nave che contattò la locale capitaneria di Porto denunciando il racconto della piccola. Un atteggiamento incomprensibile seppure fosse stato vero commenta l'avvocato Zuccaro avrebbe dovuto consegnare il professionista alle autorità italiane. Comunque sia l'uomo venne trattenuto sull'isola in stato di ferma e da quel momento è iniziato il suo calvario, 122 giorni di carcere tra topi e scarafaggi dice ancora illegale in attesa di giudizio. Adesso la palla passa all'Italia, ovviamente se l'accusa è reale pagherà la pena in Italia ma se così non dovesse essere quello che ha già pagato è davvero troppo. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo su Caserta prima pagina e andiamo a vedere le notizie che vengono raccontate da questo quotidiano. Un pezzo di Piedimonte Matese a Grosseto, una strada infatti sarà intitolata al questore Maria Alessandra Barbantini e vediamo proprio la notizia di qualche giorno fa infatti, una notizia che fa onore ai piedi montesi tutti approvata in sede alla Commissione Comunale Toponomastica a Grosseto l'intitolazione di una strada Maria Alessandra Barbantini già questore di Grosseto. Tra qualche giorno la conclusione dell'iter processuale, l'approvazione in giunta e la localizzazione definitiva poi sarà realtà a Grosseto, avrà una strada dedicata alla compianta congiunta di un grande piedi montese Pasquale sposato, anche gli questore di Siena. E infatti la donna nacque a Roma nel 1934, giunse a Grosseto nel 61 come ispetrice dopo aver vinto il primo concorso per la neonata polizia femminile interessandosi soprattutto di minore diritto di famiglia. venuta a mancare nel 1997 in seguito a una malattia. Rimasto vedovo il piedi montese Pasquale sposato, rotariano di vecchia dato ha ottenuto diversi incomi e riconoscimenti per importanti operazioni di polizia giudiziaria per essersi particolarmente distinto per impegno e spirito di sacrificio in occasione della grave alluvione che colpì proprio la provincia di Grosseto nel 1966. E ancora continuiamo a vedere le notizie che arrivano da Caserta a prima pagina ancora una notizia di cronaca, spari e rapina, terrore per una coppia, due arresti andiamo a vedere proprio che cosa è avvenuto. Eccoci qua, sono stati arrestati praticamente in flagranza di reato i due rapinatori che nel pomeriggio di ieri hanno rapinato una coppia che viaggiò a bordo di una BMW in via Stellato a San Prisco i carabinieri della Compagnia di Santa Maria a Capoavetere hanno infatti bloccato i due napoletani dopo un breve inseguimento conclusosi in via Ugo Foscolo. Come ricostruito dai militari guidati dal capitano Macri nel mirino dei rapinatori era finito un noto imprenditore edile alla moglie i due malviventi in sella ad uno scooter hanno affiancato la vittura intimando all'imprenditore di aprire lo sportello e consegnare soldi e gioielli al secco no della vittima. I due rapinatori hanno estratto una pistola e hanno sparato tre colpi uno verso l'asfalto, un secondo contro l'auto che per fortuna non ha raggiunto le vittime e un terzo in aria. Insomma una vicenda che ormai sta diventando sempre più frequente nella zona casertana dove imprenditori vengono proprio fiancheggiati mentre stanno percorrendo le strade cittadine da chi si trova a bordo di uno scooter o di una moto e cerca appunto di sottrargli denaro che comunque sanno perfettamente che portano con sé. Insomma le notizie oggi sono state tante e variegate e soprattutto molto 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 ricche di particolari per quanto riguarda però la rassegna stampa di oggi termina qui vi lascio ai programmi di Teleprima e come sempre ringrazio Tecno Campus che ci offre sempre questo momento di informazione a voi tutti l'augurio di una buona giornata e come sempre ci vediamo domani. Questo programma è stato offerto da Tecno Campus e come sempre ti vediamo domani. Noi. Noi.